Ciao bello, sono Lauridis e intanto sono, grazie eh, sono tornato dalla Spagna e mancom ben tornato, ero in vacanza, tu non ne sai niente perchè non mi segui su Twitch, comunque i video della domenica non ci sono stati perchè appunto in Spagna non sono riusciti a fare i video in tempo, quindi ora ricominciano Stasera ricominciamo le stream e ti voglio dire, stasera le ricominciamo però con un gioco particolare che si chiama The Council, è un gioco narrativo e penso sia carino farlo tutto insieme, è come vedere un film tutto insieme Quindi stasera, alle 9 e un quarto, dalle 9 e un quarto in poi, non so se ritardo un po' massimo 9 e mezza, comunque 9 e un quarto su Twitch ci facciamo questo gioco insieme The Council, ripeto lo sto scaricando ora, fichissimo Quindi ci riuniamo così, ricominciamo le stream in questo modo, senza né Rocket né Fortnite perchè dovevi prendere la mano su entrambi, ma con questo film da vedere insieme, cioè non è un film, è un gioco interattivo di avventura, dicono che si è fatto molto bene E' a capitoli, quindi noi ci giociamo il primo capitolo, appena esce giociamo il secondo e così via, spero sia interessante, ricorda stasera 9 e un quarto Twitch, link in descrizione, ci vediamo lì, ciao ciao